O noi accettiamo un sistema che lo chiamo copernicano a teatro, quindi questo, o accettiamo un sistema tolemaico. Le due cose sono incompatibili. Non può dire domani un essere umano, gli esseri umani sono incapaci di questo e d'altro. Una volta affrontato Copernico, o affrontato da Copernico, sì però quel toloma è o mera simpatico. No, no, la terra non è piatta e siccome non è piatta è venuto dopo il cerco Copernico, quindi il tolomeo si mette a letto una volta per tutte. Io credevo, dico in vent'anni di tempo, li persuago così a fare il dodo, dicono i francesi, a dormire, rimboccando loro le coperte. Questo nessun attore ha voluto farlo in Italia. Non ce l'ho con gli attori perché, almeno, fanno il loro lavoro, devono anche vivere, campare. Poi sono le persone più ignoranti che esistono sulla faccia della terra. No, 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 ecco, non buttiamola in polemica perché è una cosa, restiamo religiosamente seri. Invece non è accaduto, tutto va avanti come se non si dovesse morire mai. Invece si deve morire.